Dopo i giovani Luca Pipoli, terzino sinistro, 21enne, ex Levico Terme, serie D ed Alessandro Celli, difensore centrale, 20enne, ex Latina, club fallito dopo essere retrocesso in serie C, ecco che approda alla corte di Valeriano Roseto un esperto estremo difensore, la Fidelisandria, ha ufficialmente ingaggiato il portiere 36enne Roberto Mauro Antonio, a lui a Marco Celli il compito di dipendere la Porta Azzurra, Il calciatore ex Taranto può vantare ben 182 presenze tra i professionisti di cui 30 in serie C2, 54 in serie B e 98 nella terza categoria professionistica italiana, con lui patron Montemurro si era accordato da diverse settimane, intanto si è raffreddata la trattativa con il Foggia per il trasferimento in terra da una del centrocampista classe 96 Antonio Matera. Alla base di tutto la mancanza di un accordo sull'ingaggio, nelle prossime ore il club ufficializzerà altri colpi, è praticamente fatta sia per il centrocampista centrale Alessio Esposito della Provercelli che per l'attaccante andriese Riccardo Lattanzio, classe 89, proveniente dal Bicegni.